Servaldo Cantor, epilogo amaro, però anche stasera non ci si può rimproverare nulla. Beh, penso che sia stata la partita sulla scia di tutto il campionato. Una squadra che è un po' rimaneggiata, diciamo, per certi versi, comunque ha lottato e ha mostrato un'anima molto grande, un cuore enorme, molto coraggio per mettersi alla palla di una squadra che in questo momento sta giocando molto bene, che ha degli elementi veramente che stanno sui livelli di efficienza altissimi, ma anche noi siamo stati bravi, abbiamo giocato, abbiamo tenuto, a momenti siamo calati un po' troppo, ma dopo siamo rivenuti ancora in gala, quindi credo che bisogna fare comunque i complimenti alla squadra perché ha giocato, ha lottato, era quasi quasi, ma quasi quasi non si vince, però veramente devo fare i complimenti ai ragazzi, ovviamente essendo l'ultima partita un ringraziamento enorme da Pippo Calipo, il presidente, a tutto il resto della gente che è dentro della squadra e a quelli che ci hanno sostenuto fuori della squadra. veramente ho trovato grande sinergia fra il pubblico e la squadra e questo ci ha aiutato tanto per arrivare a quell'ottavo posto che veramente dobbiamo tenerlo come qualcosa di molto, molto importante che abbiamo raggiunto. Grazie mister, in bocca al lupo per il futuro. Beh, Crepi e a tutti quanti grazie. Grazie.